Il nemico ha conquistato un obiettivo Assunto il controllo di un obiettivo Assunto il controllo di un obiettivo Assunto il controllo del controllo Assunto il controllo Assunto il controllo Sì, vedi che! Run off, Ghost! Le risorse del nemico scarseggiano! Aiuto! Ha ha! Le forze nemiche stanno l'azione! Abbiamo vinto! Il nemico si è arreso! Di sopraffare! Carica e piazzate! Proteggetele fino all'esplosione! Man down! Man down! Oh!